Prince Harry, Spare, il minore, capitolo 7. Poi tutti ripresero la loro vita. La famiglia tornò al lavoro e io ricominciai la scuola come sempre dopo le vacanze estive. Di nuovo alla normalità, dicevano Allegri. Dal sedile del passeggero dell'Aston Martin Cabrio di papà tutto sembrava esattamente come prima. La Lourdes Grove School, anidata nella verdissima campagna del Berkshire, somigliava come sempre a una chiesa di campagna. Se ci penso, il motto della scuola è ripreso dall'ecclesiaste. Tutto ciò che la tua mano è in grado di fare, fallo con tutta la tua forza. Ma non sono molte le chiese di campagna che possono vantare 80 ettari di boschi e prati, campi sportivi e da tennis, laboratori di scienze e cappelle, oltre a una biblioteca molto ben fornita. Nel settembre 1997, se volevate trovarmi, probabilmente la biblioteca sarebbe stato l'ultimo posto dove cercarmi. Meglio controllare i boschi o i campi sportivi. Cercavo di muovermi in continuazione, di tenermi impegnato. E molto spesso ero solo. Mi piacciono le persone, sono socievole per natura, ma in quel momento non volevo nessuno vicino, avevo bisogno di spazio. Tuttavia a Lutgrove era chiedere troppo, con oltre cento ragazzi che vivevano a contatto. Mangiavamo insieme, ci lavavamo insieme, dormivamo insieme, a volte in dieci in una camerata. Sapevamo tutto di tutti, persino chi era circonciso e chi no. Li chiamavamo teste rotonde contrapposte ai cavalieri. Eppure, non ricordo nessuno che abbia accennato a mia madre quando cominciò l'anno scolastico. Per rispetto, credo più per paura. Di certo io non ne parlai. Pochi giorni dopo il rientro a scuola, arrivò il mio compleanno, il 15 settembre 1997. Compi 13 anni. Una tradizione di lunga data di Lutgrove. Prevedeva una torta e un sorbetto e mi fecero scegliere due gusti. Presi il ribes nero e il mango. I preferiti di mamma. A Lutgrove i compleanni erano sempre celebrati in grande perché tutti i ragazzi e molti degli insegnanti avevano una passione per i dolci. Spesso c'erano aspre discussioni su chi doveva sedere accanto al festeggiato in modo da assicurarsi la prima fetta, la più grossa. Non ricordo chi si accomodò accanto a me. Esprime un desiderio, Harry. Volete un desiderio? Bene, vorrei che mia madre fosse. Poi dal nulla. Sia Sara. Teneva in mano una scatola. Aprila, Harry. Strappai la carta e il nastro e sbricciai dentro. Che cosa? Mamma lo aveva preso per te poco prima. Vuoi dire a Parigi? Sì, a Parigi. Era una Xbox. Ero felice. Amavo i videogiochi. Questa è la storia apparsa in diversi resoconti come fosse Vangelo. Ma non ho idea se sia vera. Papà aveva detto che la mamma aveva una ferita alla testa. Ma forse ero io quello con il cervello danneggiato. Probabilmente per un meccanismo di difesa la mia memoria non registrava più gli eventi come faceva prima.